La Sicilia produce 300.000 quintali di mandorle l'anno, gran parte della produzione è utilizzata dall'industria dolciaria per i confetti. Notevole è anche la produzione di nocciole che raggiunge i 100.000 quintali e quella dei pistacchi con 25.000 quintali. Mandorle, nocciole, pistacchi e noci non sono certo importanti come gli aranci o i limoni per l'economia dell'isola, ma per numerose famiglie costituiscono da generazioni una buona fonte di guadagno. Il 90% della produzione di frutta secca è venduto oggi all'estero.